Allora, eccoci qui anche stasera allo stand del Roma Web Fest all'interno del Festival Internazione del Film di Roma con il grande attore Valerio Di Benedetto, protagonista di Dylan Dog, il film che uscirà? Fino e braio, inizio marzo su Youtube, sul canale di The Juggal Complimenti intanto Valerio, volevo farti due domaniere riguardo le web stiles ovviamente Cosa ne pensi, pensi che possa essere il futuro, pensi che questo modello comunicativo possa soppiantare magari un giorno, lo so, la pellicola, cioè è il futuro o no? È il futuro ma non credo possa sostituire la pellicola, forse la televisione per le tematiche trattate, le fiction che vengono fatte in tv, diciamo qualitativamente spesso vengono anche superate dalle web series, quindi secondo me sì, cioè si sta aprendo un'altra piattaforma il web è un'altra piattaforma in cui vengono messi audiovisivi, videoclip A livello anche di tematiche trattate, pensi che questo modello possa avere un'inclinazione particolare come approccio a tematiche anche più seriose o comunque un'inclinazione per la comicità, per la leggerezza, o si può trattare nelle web anche argomenti impegnati? Sì perché no, anzi credo sia anche molto più aperto rispetto alla televisione, cioè sul web ci stanno tante web series Vieni, vieni, vieni qua, eccolo qua, eccolo, ma che cosa fai? Mi hanno già braccato, non lo so di cosa faccio qua Ciao, sono il primo che passa Che carino il primo che passa Che succede? Che facevate qua? Che cos'è? Una festa? Si parlava di web series Si parlava di Terea Non ne so niente, non ne so niente, voglio parlare con il mio avvocato Fantastico No, è molto più ampia rispetto alla televisione, cioè sul web trovi anche delle serie horror che in Italia non fanno, le comprano dall'estero ma non le producono quindi secondo me c'è un ampio range rispetto alla fiction, ai canali classici tra Rai e Mediaset Benissimo, allora, stato gentilissimo, faccio un saluto improvvisato alla D-Landog a tutti quelli che ci seguono Alla D-Landog lo vogliamo, si saluta Così Crucio? Dov'è? Sta lì l'Uravecchi Bene Ciao